Rivelazione del demonio durante esorcismo Questa preghiera, insieme alla novena alla Madonna della Neve, è indispensabile per distruggere i malefici fatti con i terribili riti voodoo. La vittima in genere sente un insopportabile calore o avverte di essere bruciata in tutto il corpo o in alcune parti del corpo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vergine Beatissima, che noi onoriamo col titolo di Madonna della Neve, ricordati che sei la Madre nostra e la nostra speciale protettrice. Veglia incessantemente su di noi e facci sentire i benefici effetti della tua protezione. Rendici buoni nella mente per la fede, buoni nel cuore e nelle opere per la carità. Fa, o Madre nostra cara, che a tua imitazione amiamo assai Gesù Cristo, perché i Suoi insegnamenti ed esempi siano in tutte le ore della nostra vita, la luce dell'anima nostra. Ottienici il perdono delle colpe e preservaci dal commetterne di nuove. Benedici noi, le nostre famiglie, tutti coloro che ci sono cari. La tua benedizione ci conforti, specialmente nei dolori della vita e della morte, e ci conduca in paradiso a cantare insieme con te la gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo così sia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza, nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti.